Eccoci qua ragazzi, buonasera a tutti, noi siamo da Decathlon perché devo migliorare il mio status di padre quindi è arrivata ora di comprarmi una racchetta, spero di trovarla, è anche un completino decente per sembrare un po' più forte ma in realtà sono scarsissimo e in tutto questo sto cercando anche un maestro su Milano però non riesco a trovarlo e quindi niente, adesso prendo questa racchetta, amore, quindi andiamo a prendere la racchetta, professionisti Avere i piedi sulla linea di servizio renderà molto difficile il gioco con il vedo di fondo campo sulle palle più lente rimanendo due passi dietro la linea di servizio